Cinque persone, di cui tre minorenni, sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di avere preso parte a una rissa in via Crispi, nel centro storico cittadino. Il fatto è avvenuto nella mattinata di domenica. A segnalare quanto stava accadendo ai carabinieri sono state alcune persone che hanno assistito alla scena. Subito dopo, sul posto è arrivata una gazzella dei militari dell'arma, i quali hanno sorpreso i cinque protagonisti in negativo della vicenda. Gli investigatori li hanno identificati e denunciati a piede libero. Non è chiaro il motivo per cui gli indagati hanno iniziato a darsele di santa ragione. Saranno adesso le indagini a mettere insieme le tessere del mosaico.